giovedì 15 dicembre 2022 ancora il buongiorno dalla redazione un nuovo appuntamento con news cappuccino e briocio l'informazione il mattino presto in diretta alle 6 e 30 con l'analisi sfoglio dei principali quotidiani in edicola ma anche con l'interazione i vostri messaggi che possano per venire in redazione ci scambiamo qualche opinione al 327 94 39 574 salutiamo tiziano campigotto che invece si trova in regia e si occupa della parte tecnica andiamo in ordine con l'analisi delle prime pagine con i giornali subito il messaggero veneto apre con una grande immagine si parla dell'ondata di rincariche frena gli acquisti per il natale 1 su 4 rinuncia al regalo approfondimento pagina 2 l'allarme dei farmacisti per influenza e covid alcuni medicinali ora non si trovano aumentano i consumi e scarseggiano numerose materie prime dagli antidepressivi al semplice paracetamolo ecco cosa manca 12 e 13 sono le pagine del quale appunto ci si occupa dell'argomento sulla spalla di sinistra l'euro scandalo l'inchiesta euro deputati pagati dal catar lo stoppa i rapporti con l'emirato le sfide dell'economia bene sul debito ma fisco e pensioni impegni traditi l'unione europea sulla manovra futuro del pd congresso ed il fantasma del renzismo università di udine dentro la storia dell'antica assiria a destra sulla spalla ci sono ancora un paio di notizie la vediamo legata alla cronaca carnera da 7 mila posti con albergo e una spa il progetto che vale 28 milioni di euro sotto la trattativa va avanti ma lo sciopero resta oggi bus saranno fermi per quattro ore nella parte più alta del messaggero veneto oggi ne dico la due notizie nella legge di stabilità regionale arrivano altri 42 milioni di euro dopo coppola spunta anche onsel posso guidare a ferma il centro sinistra rimaniamo nel messaggero ma ci spostiamo con invece l'altra edizione quella legata al giornale di pordenone superponibili alcune news come l'allarme da parte dei farmacisti per influenza covid farmaci che non si trovano mentre in centro pagina vediamo la foto gli stati generali dell'area il comune che afferma rivedremo le misure anti inquinamento diversa la cronaca sulla spalla di destra almeno due le notizie gravi rispetto a quanto è accaduto ieri nella destra tagliamento primo episodio è una donna caduta da cavallo che batte la testa ed è intervenuto l'elisoccorso per stabilizzarla e trasferirla all'ospedale poi ancora invece lutto perché non ce l'ha fatta la 49enne rimasta ferita nello scontro con un tir del quale avevamo parlato caduto lunedì della quale appunto la sua automobile era ribaltata più volte la donna appunto si è spenta all'ospedale dopo 48 ore di agonia andiamo con il gazzettino la prima pagina oggi è questa titolo stufe inquinanti vanno spente piano regionale sulla qualità dell'aria punterà a limitare le emissioni derivanti dal riscaldamento domestico e la legna la situazione è peggiore la registriamo in carnia in provincia di pordenone dove il ristagno dell'aria è appunto alto per la vicinanza con la pianura padana l'innovazione sensori sui bus anche per scovare smog e pericoli l'iniziativa di centro pagina bandiere sulla pavimentazione le vediamo in questa grande foto che occupa oggi la parte centrale della prima pagina del gazzettino il titolo che accompagna la news via corizzes la strada dell'europa centralissima via di udine interessata da un'iniziativa unica nel suo genere curata dagli studenti dell'istituto marinoni detoni non passa l'esame di open guerra tra gli ex rettori il partito di furio 11 la fossa l'alleanza comunale con il centro sinistra udine sportello energia il comune guida verso il risparmio nella parte più bassa della prima pagina si legge samazi e i giovani la sfida del 2023 poi spazio il basket il colpaccio dell'odwell west arriva gentile mian mussini nella lista dei partenti a destra due notizie in breve l'indagine un friulano su quattro rinuncerà quest'anno ai ragalli di natale l'arte la tela antica sbaraglia i concorrenti su internet rimaniamo nel gazzettino ma andiamo nell'altra edizione quella di pordenone il titolo sovrapponibile stufe inquinanti vanno spente il piano regionale sulla qualità dell'aria però poi si va invece con la cronaca si parla dello schianto avvenuto a estrago in comune di spilimbergo dove appunto la 49 n stella donato agli organi si è spenta dopo 48 ore dal quale era ricoverata all'ospedale dopo l'incidente non ce l'ha fatta l'automobilista toscana che lunedì è stata travolta da un camion si chiamava stella laurini 49 anni automobilista travolta da un camion ad istrago in tribunale travolse e uccise una sportiva una triatleta a patteggia due anni pena sospesa l'automobilista di pasiano che è travolto e ucciso la maratoneta francesca manfè durante un allenamento ieri ha patteggiato due anni ancora notizie per quanto riguarda invece altri giornali procediamo dopo il gazzettino con il giornale il piccolo in questo 15 dicembre ancora il buongiorno subito la grande foto vediamo gli autobus e quindi notizia legata a questo abbonamenti e bus lo sconto sarà del 50 per cento per gli over 65 il nuovo welfare aziendale in busta paga aiuti per le bollette e buoni per la benzina aumentano le grandi e piccole imprese che erogano i dipendenti benetti di fine anno contro il caro vita a sinistra per il piccolo la commissione l'unione europea che promuove la manovra pensioni e fisco sono nel mirino poi la sfida sul mess l'italia va allo scontro il ministro che rinvia la ratifica provvedimenti colpo di spugna sulla pandemia via le quarantene tamponi e pass tutto dovrebbe sparire a breve a trieste veglione in piazza senza vetro e lattine questa è una delle principali disposizioni previsto dall'amministrazione di trieste la cronaca a destra nella spalla trieste sempre al top per la cura del cuore e gli interventi post infarto e poi rilancio di san giovanni prima pietra per il nido al posto dell'ex caserma nello spazio più alto del giornale il piccolo ci sono due notizie lo scandalo euro deputati al soldo del catar congelate le trattative con do il retroscena tangentopoli svelata dai servizi dopo oltre un anno di indagini visto questo andiamo invece con uno sguardo veloce all'informazione in italia e prima poi di andare con l'approfondimento partiamo dal corriere della sera il primo titolo è questo manovra si ue con paletti critiche su fisco tetto il posse pensioni giorgetti siamo dalla parte giusta bruxelles misura in linea con le raccomandazioni maggioranza diserta la commissione bilancio il pd che occupa pagamenti digitali ora abbiamo l'ipotesi del 30 euro e la festa con il monza battuta shock di silvio berlusconi scatta la polemica lo scandalo il cerchio panzeri al libro paga del catar l'inchiesta si allarga di istanbul condannato il sindaco avversario di erdogan e mentre in centro pagina si parla di sport calcio mondiale ora finale con l'argentina ma peccola maglia dei rivali si spegne il sogno del marocco la francia va a caccia del bis vialli sempre per lo sport l'annuncia lascio gli azzurri mi cure mi curerò ma poi tornerò crollo del ponte morandi c'era un carico di droga andiamo con repubblica l'apertura in questo giovedì è l'euro scandalo corrotti dalle spie l'atto di accusa 007 marocchini hanno dato soldi a panzeri al suo giro mazzette regali dal ministero del catar poi rete italiana nelle carte dei giudici indicati cozzolino moretti arena il capogruppo del pd bonifei la confessione giorgia ammette sono stato io a prendere le busterelle ma scarcerate la mia compagna eva caili questa è la sua richiesta centro pagina sport mondiali in finale con l'argentina vince la francia finisce il sogno del marocco a destra lo stop dell'unione europea al governo sul fisco post e anche si parla di pensioni l'ucraina sulla linea del fuoco con i cannoni che sono stati donati dall'italia chiudiamo con la stampa questo sguardo per l'informazione in italia subito catar deputati ue a libro paga l'inchiesta nata da una soffiata dei servizi segreti panzeri giorgi in carcere per almeno un mese i magistrati belgi lo scandalo è destinato ad allargarsi congelate tutte le trattative con doha l'economia manovra sì di brussel bocciati i posse le pensioni salvini pressa giorgetti l'italia congela il mess l'analisi se orban può ridere dell'unione europea comitato diritti e donne l'onu espelle l'iran oltre 170 mila le firme per l'appello che è stato raccolto centropagina anche in questo caso sport e calcio francia batte il marocco raggiunge l'argentina in finale domenica sarà messi contro ma la favola è finita questo il titolo che si legge proprio nella parte centrale legato alla foto tra lacrime e orgoglio i due volti delle bandiere a destra notizia in breve la guerra che fine ha fatto vladimir putin questa la domanda dal quale poi si risponde all'interno il premio io e la guerra scuola scalfari ci fermiamo solo un attimo abbiamo analizzato velocemente i principali argomenti e titoli anche di oggi in questo giovedì ancora buongiorno attendiamo i vostri messaggi alcuni sono già arrivati qualche decina quindi grazie contragambiamo subito anche i tanti auguri di buona giornata che ci state inviando al 327 94 39 574 ripartiremo dal messaggero veneto meno regali crisi economica almeno un friulano su quattro quest'anno non acquisterà dei regali ripartiremo proprio da questa analisi in regione non solo poi tutte le altre notizie piccolo break a tra pochissimo allora ancora buongiorno a quanti sono collegati anche sui social e quindi le persone su facebook youtube e lo streaming web vado immediatamente a chiudere il pdf con le prime pagine in questa anteprima di oggi negli 11 minuti abbiamo visto insieme dietro eccolo nello schermo il messaggero che andremo a sfogliare velocemente si parlerà proprio dei niente regali per uno su quattro per quanto riguarda appunto crisi e tagli un pochino ovunque anche su queste cose natalizie buongiorno carissima ciao florence grazie per il tuo messaggio stavo partendo in diretta per cui non ti avevo risposto proprio alle 6 e 29 quando me l'avevi inserito buon giovedì a tutti da florence mandi mandi e poi inserisce l'icona di un di una brioche e due cappuccini giusto sì una brioche e due cappuccini grazie florence e poi tutti gli altri che già mi hanno scritto sono tanti ora non riesco a fare tutto l'elenco completo eccolo qui perché volevo aprire la diretta facebook per fare qualche saluto come roberto scarpa che scrive buongiorno da cavallino treporti buongiorno com'è il clima qual è la situazione meteo e roberto da quelle parti fammi sapere dovrebbe arrivare la pioggia giusto dalla sera poi piogge anche abbondanti però domenica insomma avremo una giornata di bel tempo anche se molto fredda nadia ferletta trieste ti saluta ma nonostante tutto le notizie positive sono poche ma almeno avremo i fuochi d'artificio ciao nadia adesso leggo il tuo messaggio anche in tv mi fa piacere che sei con noi ancora messaggi whatsapp in televisione sono ammareggiato al comportamento di certi individui scusate lo sfogo non lo so di cosa si parla non riesco a comprendere poi ancora mariana nicolic il buongiorno ciao mariana ben trovata come va con l'influenza sei ancora sotto le coperte stai meglio tienimi aggiornato va bene a san buongiorno roberto finalmente ti vedo guariti qui a lignano freddissimo e lo sappiamo ma insomma dai temperature che fanno parte di questa stagione tutto sommato ancora angela buongiorno roberto buongiorno a tutti dalla tisana anche oggi freddo un grado bene grazie per l'aggiornamento meteo anche da parte delle persone che sono collegate con noi ci siamo intrattenuti un minuto con i saluti ma ora dobbiamo riprendere l'informazione quindi andiamo immediatamente ciao angela buongiorno angela grazie per il tuo messaggino su whatsapp non so se lei mi sta seguendo lì o altrove ma dicevamo dobbiamo riprendere lo sfoglio dei quotidiani lo facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle sei e mezza del mattino fino alle sette e mezza e poi con possibilità invece di replica più tardi alle otto e mezza per chi vuole ha possibilità di seguirci in televisione ricordiamo invece per tutti gli altri possibilità di iscriverci mediante il numero che vedete in sovraimpressione qui e poi ancora che ho già ripetuto invece le persone all'estero sono tante le saluto caramente e poi andrò a leggere anche qualche messaggio che è arrivato da parte loro ora torniamo in tv canale 11 ancora insieme torniamo con news e cappuccino viroscia alle 6 44 del mattino in questo giovedì 15 dicembre 2022 siamo insieme dalle 6 30 in diretta live salutiamo quanti ci seguono più tardi durante la replica dove i messaggi rimangono sempre attivi potete scriverci anche lì dopo le 8 e 30 molti sono i saluti già arrivati come il buongiorno da florin pavel buongiorno poi ancora altre persone che ci salutano nadia che è collegata con noi da trieste nonostante tutte le notizie positive sono poche ma almeno avremo i fuochi d'artificio così ci scrive poi persone collegate invece dalla bassa come angela ci fanno sapere le temperature buongiorno a tutti della tisana anche oggi freddo la tisana abbiamo un grado in questo preciso momento grazie per i messaggi sono davvero moltissimi se volete entrare anche nel merito delle notizie commentarle insieme a noi fatelo perché di tanto in tanto andremo a leggerli ma ripartiamo dal messaggero veneto caro bollette frena gli acquisti di natale dicevamo nell'anteprima niente regali almeno per uno su quattro in regione la spesa media è stata calcolata di 154 euro a persona per il 44 per cento è necessaria e scaini direttore scientifico di forma research annuncia sarà un'altra festività però legata alla crisi l'84 per cento ritiene che la festività sarà vissuta in modo più dimesso rispetto al 2021 sempre legato all'aumento del costo della vita materie prime e poi soprattutto il caro bollette se ne parla molto oggi nel giornale nelle primissime pagine il disagio sociale l'8,5 ammette di dover fare sempre debiti la scelta all'enogastronomia dentro il pacco canali su internet il 60 per cento degli acquisti che verranno effettuati anche in regione nel commercio il primato da parte degli ultra cinquantenni nel terziario fino a gennaio 2023 sono previste poi 25.000 assunzioni introvabili sono cuochi e camerieri cassa integrazione guadagni diminuita del 94 per cento su base annua due imprese su tre prevedono di non riuscire a reperire le figure di cui avrebbero bisogno specie nel mondo del turismo numero di operatori nel commercio è sceso di oltre 400 unità rispetto al periodo precedente stiamo registrando un meno 2,3 per cento saltiamo l'informazione nazionale ne abbiamo già letto i titoli questa mattina presto per quanto riguarda la nostra anteprima e sfoglio delle prime pagine torniamo in regione con la sanità corrono l'influenza covid e i farmacisti annunciano che alcuni farmaci per curarsi ora scarseggiano dagli antidepressivi agli antipirettici mancano circa 3.000 specialità medicinali le cause dietro al disagio per federfarma all'accavallarsi di problemi di natura diversa non ultime il forte utilizzo di farmaci per il trattamento domiciliare del covid nella maggior parte dei casi si può comunque acquistare un medicinale equivalente o uno che abbia gli stessi effetti a destra la politica ci ignora affermano protesta dei medici negli ambulatori a lume di candela una giornata appunto che sarà caratterizzata da questo segno di protesta per chiedere attenzione da parte della politica alla medicina generale ancora news nazionali e poi tornando in regione si parla di giunta e ancora scelte dei partiti nella legge di stabilità arrivano altri 42 milioni di euro tra le novità il dimezzamento dei costi per il trasporto pubblico locale per tutti gli over 65 avranno uno sconto del 50 per cento cresce dote famiglia fondi d'associazioni impiantistiche poi bonus per lo sport e nuovi stanziamenti serviranno anche per la manutenzione e l'abbodernamento degli impianti sportivi sia quelli pubblici ma anche quelli privati sono diverse le foto oggi riportate sopra da sinistra vediamo bini con sibao ma poi al centro massimiliano fedriga anche insieme all'assessore barbara zilli la ricerca del candidato presidente per la coalizione dopo coppola spunta anche furio on sale che dice posso guidare il centro sinistra lo vediamo qui sopra in un'immagine accanto anche a massimo morettuzzo dai buoni benzina i voucher amazon ci sono i benefit in busta paga fino a 6 mila euro queste le soluzioni che molte stanno adottando si parla quindi di welfare aziendale che è stato scelto da diversi gruppi industriali andiamo e quindi con l'economia oggi la principale news è questa contessi bisogna ridurre il bonus dal 110 al 90 è stato però un errore critico il presidente di ance fvg sulla decisione del governo di rivedere le agevolazioni il tema codice degli appalti si confermi la norma in scadenza del decreto crescita andremo tra pochissimo ancora con messaggero udine intera provincia ora come sempre ci spostiamo solo per un attimo andiamo a vedere le principali notizie anche un pochino nella trieste nella città e poi gorizia e mofalcone per poi tornare anche nelle altre zone nel cuore del giornale il piccolo si riparte con il rilancio di san giovanni prima pietra per il nido al posto dell'ex caserma un anno e 3,5 milioni per i lavori ospiterà 66 bambini dal 24 al 25 è l'avvio di un piano che riguarderà poi la palestra di viale sanzio e la casa dell'associazione all'ex filzi vediamo le foto sopra immagini con via delle docce ecco il cantiere nella foto si vede bruni tre momenti del sopralluogo di politici e tecnici proprio in via delle docce accanto centro congressi molo quarto per gli alunni della corsi municipio valuta l'opzione poi campo ferina ponziana l'ultimo avviso del comune alla triestina calcio già in consiglio bilancio 2023 non succedeva dai tempi di illi dispositivo da 856 milioni questa sera ci sarà la presentazione poi lunedì la discussione sugli emendamenti continuando a sfogliare il quotidiano il piccolo e saltando l'inserto contenuto all'interno si legge nel prossimo titolo piano forte della pro senectute prima asta vuoto e subito il bis lo strumento donato dal primo rovis è custodito negli spazi della ginnastica triestina un'offerta è arrivata ma è troppo bassa è un'altra oltre i termini invadono così il primo tentativo già indetto però un secondo bando nel cda dell'ente emergono ora i distinguo triest è sempre più e sempre prima in friuli venezia giulia poi tra le migliori in italia per gli interventi post infarto e anche per la cura del cuore questi sono i dati della genas su ricoveri e tassi di mortalità confermando lo status di eccellenza del polo cardiaco diretto da sinagra capodanno in piazza al bando vetro e lattine le rive saranno chiuse al traffico ecco le principali regole disposizioni la musica sarà affidata a magazzino commerciale dennis fantina e radio company gli ultimi dettagli della festa per il quale il comune di trieste andrà ad investire per questo capodanno si spenderanno 165 mila euro però c'è un contributo che arriverà da parte di fondazione cr trieste torna la christmas run 5 chilometri di corsa a favore dei bambini malati impianti sportivi più cari a mugia ma le ssd locali pagheranno meno tariffe 2023 in base infatti alle istanze dei genitori usciamo da trieste torniamo ora invece sempre nel piccolo nell'altra edizione quella legata all'isontino buongiorno giovedì 15 dicembre siamo insieme con news cappuccino brioche per vedere le principali informazioni grazie ai quotidiani oggi in edicola gorizia pista di pattinaggio dal 22 dicembre filo diffusione offerta dalla cia le iniziative per vivacizzare la città dell'impianto sarà aperto fino all'otto gennaio 2023 si occuperà la cima musiche natalizie come trieste in tutto il centro cittadino la struttura coesisterà con il palco installato per la festa di capodanno anche qui a gorizia nuova vita i giocattoli e tornata isa replay per la solidarietà e poi nella pagina vicino traffico cittadino si parla della nuova rotatoria da 1,4 milioni nell'incrocio dove ci sono troppi incidenti sarà pronta nei primi mesi del 2024 tra via gregorchic 56 bis e savogna fondi che sono già a disposizione sotto immagini con l'incrocio interessato e la regionale 117 in basso a sinistra il progetto invece legato a questa rotonda che abbiamo letto nel titolo alla scuola di via san michele torna la sezione sperimentale sant'andrea comune punta sulle attività rivolte ai bimbi dalle fasce 24 36 mesi servizio che risponde alle esigenze accoglienza riposo gioco e anche alimentazione anche in questo caso si salta l'inserto contenuto all'interno e approviamo subito nella città di monfalcone dove si parla di sanità e di territorio agli orari caldi criticità che si evidenziano soprattutto al mattino il titolo rivoluzione al san polo arriva il disco orario provvedimento che sarà sperimentale si parte il primo gennaio e servirà a tamponare la cronica carenza di parcheggi come si diceva soprattutto il mattino al san polo non vogliamo dice cisint multare per fare cassa ma bensì l'obiettivo è quello di risolvere i problemi legati all'utenza che non trovano parcheggio quando si recano proprio all'ospedale sopra vediamo anche immagini con sopraluogo dello stesso primo cittadino di monfalcone la cronaca ruba una tutina in ciniglia da bebé ma non si accorge delle telecamere la titolare di lp in corso ha visionato i filmati posta la foto del furto sui social per avvisare i colleghi dicendo di fare massima attenzione vediamo il fotogramma con l'immagine dove viene immortalata dalle telecamere una donna del circuito interno che appunto rubato questa tutina e poi sopra accanto abbiamo visto la commessa tiziana che mostra invece l'oggetto del furto donne operate al seno in arrivo al san polo c'è un nuovo strumento la preghiatura di radioterapia costa 20.000 euro raccolta fondi per l'acquisto nello spettacolo canto libero si mobilita il comune di monfalcone la bcc e anche il volontariato vediamo la foto con la presentazione dell'iniziativa insomma canto libero solidarietà e tutto il ricavato servirà ad acquistare quindi della strumentazione sanitaria utile soprattutto per la prevenzione san piere avviate nuove iniziative la scuola di ceramica con la supervisione della responsabile elisabetta braidot le proposte coinvolgeranno adulti e bambini con il percorso di ceramic art e come vediamo anche qui nell'immagine l'attività della scuola di ceramica la curiosità l'albero dei ricami bisiacchi lo vediamo un pochino più a destra in questa grande foto dal comune di san pierre grazie alle auserine ovvero le volontarie proprio dell'auser che hanno realizzato l'opera i lavori i risacqua 3 milioni a cormons via le condutture in cemento amianto graziani si va avanti nonostante l'aumento dell'energia e delle materie prime in breve cormons notti magiche si rivivono in città con aldo serena e poi a sagrado passa al comune la gestione del san michele l'evento festival della canzone gradese ecco il bando per la 55esima edizione a cura dell'associazione organizzatrice preseduta da fabio marchesini linee guida per partecipare alla kermess 2023 saranno messi alla finale in totale 10 brani e poi sopra ancora per grado interruzione dell'energia elettrica domani attenzione a chi ci segue da grado dalle 8 e 30 alle 13 e 30 per lavori che si dovranno effettuare a cura dell'unità territoriale udile borizia di e distribuzione mancherà la corrente in diverse vie strade che sono così descritte all'interno oggi dell'articolo nel piccolo con questo ci fermiamo solo un attimo siamo pronti a ripartire dal gazzettino partiremo con il gazzettino della destra tagliamento perché abbiamo diverse notizie di cronaca purtroppo del quale aggiornarvi e poi andremo invece con il giornale del friuli sempre legato allo stesso giornale per poi tornare nel messaggero e analizzare l'intera provincia di udine e fornene tutto questo però tra poco anche con i vostri messaggi 327 9439 574 piccolo break allora io chiudo immediatamente il quotidiano il piccolo e mi preparo per tre notizie importanti che andremo ad estrapolare dal gazzettino della destra tagliamento per poi tornare invece nell'edizione normale tra virgolette quella del friuli quella un pochino più generale allora buongiorno grazie ancora per i messaggi grazie a tutti davvero tanti fortunatamente so res fvg non ci sono notizie della cronaca della notte per cui non abbiamo incidenti o altro di grave da per dovervi appunto aggiornare dice mariana sono rientrata al lavoro allora tanti auguri buon lavoro mariana ci aveva scritto un paio di giorni fa che non stava bene ha letto con l'influenza così come sono tanti sono moltissime le persone che ci scrivono in queste mattine che dicono di avere la febbre o di seguirci da sotto alle coperte per cui io faccio un saluto a tutti un abbraccio virtuale e auguri di pronta guarigione ciao florin pavel che mi scrive mi dice buongiorno poi ancora patrizia candussi che mi saluta contraccambio cara patrizia e poi daniela buongiorno roberto a tutti vi auguro buon lavoro da azzano decimo ciao daniela anche a te saluto la luciana che non manca mai tutte le mattine inserisce un messaggio ormai fedelissima alla trasmissione buongiorno a tutti dice anche scrive anche buon giovedì grazie davvero di cuore a tutti allora abbiamo messaggi purtroppo anche legati a persone che si associano a condoglianze per la morte della 49enne la donna fiorentina che però è toscana che però è morta e strago di spilimbergo come mi stava scrivendo poco fa marina che mi scrive da pordenone e marina guarda ne parliamo tra pochissimo rispetto alla domanda che tu mi hai fatto che non posso leggere ora in diretta ma rispetto a quella domanda abbi pazienza un attimo perché adesso ripartiremo proprio dalla provincia di pordenone per il gazzettino e tra le tre notizie che ho estrapolato importanti c'è anche questa qui rispetto al decesso della donna va bene ok allora ancora messaggi facciamo un saluto veloce a piero piero buongiorno grazie da gorizia collegato con noi dice roberto grazie per l'informazione interessante rassegna tutte le mattine con voi ma non trovo sempre il tempo di scrivere non è un problema piero lo dico a tutti anche a quanti ci seguono dall'estero sappiamo che ci siete le statistiche ci sono i contatti li vediamo anche sul sito sul vari canali anche quello di youtube che è molto utilizzato poi anche durante il giorno mediante le smart tv vediamo che qualcuno si collega anche da lì per cui non c'è problema se riuscite a fare un saluto e inviare un messaggino in diretta bene altrimenti non importa ok ciao piero e un buongiorno a tutti gli amici che mi seguono anche da gorizia e tutto l'izzontino che abbiamo appena affrontato poco fa proprio grazie al quotidiano il piccolo ora siamo quasi pronti e ci siamo così siamo intrattenuti un minuto e mezzo con alcuni messaggi e saluti ricordiamo ancora una cosa prima di ripartire in tv sul canale 11 la trasmissione parte appunto alle 6 e mezza la replica come qualcuno mi stava chiedendo parte invece alle 8 e 30 tutto viene ritrasmesso ma i messaggi rimancano pur sempre attivi va bene riprendiamo news cappuccino e broche si riparte con l'informazione lo sfoglio dei quotidiani in edicola grazie ancora per quanti ci stanno scrivendo contattando diversi messaggi che sono già pervenuti in redazione troppo ne leggeremo alcuni riprendiamo lo sfoglio noi siamo live in diretta lo ricordiamo dalle 6 e mezza e poi disponibile una replica invece dalle 8 e 30 andiamo con il gazzettino della destra a tagliamento con il focus sulla provincia di pordenone vi sono tre notizie importanti rilevanti e poi torneremo invece nel giornale del friuli san vito trema punto nascita sospeso sotto i 500 parti l'anno l'allarme è stato lanciato ieri è un incontro che si è tenuto tra cgl da sfottonuti è la norma a pordenone il 2023 posti letto in più in medicina e nefrologia la discussione a tratti anche accesa riguardo a tutte le emergenze dalla carenza di personale all'organizzazione dei reparti e poi questo annuncio shock con appunto la eventuale sospensione a san vito tagliamento del punto nascita nel caso in cui appunto si abbasseranno e non si raggiungeranno i 500 parti all'anno travolse uccise un e cinquantenne sulla ponte bana gli sono stati inflitti dieci mesi ancora news per quanto riguarda invece destra a tagliamento la runner ha stata travolta uccisa per l'uomo sono stati dati due anni pena sospesa l'automobilista patteggia infatti per la morte di francesca manfè contestata la guida in stato d'ebbrezza e revocata la patente all'uomo la 44enne saccilese era un atleta che disputava maratone gare di triathlon quel pomeriggio si stava infatti allenando quando ad un tratto è stata travolta dall'auto la vediamo sulla sinistra e francesca manfè mentre bacia quella medaglia appena vinta in gara di triathlon e poi invece a destra i soccorsi che erano arrivati prontamente in via prata tamai l'uomo patteggia due anni come abbiamo da poco letto e poi invece un'altra tragedia siamo nello spilinberghese a istrago per la precisione l'ultimo dono di stella che decide per sua volontà come aveva già testimoniato in precedenza e scritto i suoi organi sono stati donati appena espirata non ce l'ha fatta parliamo della 49enne che è stata travolta in auto da un camion era una donatrice grazie alle chance di vita a malati gravi abitava a prato ed era arrivata a travesio per assistere la sorella che aveva appena partorito il compagno afferma aiutava sempre tutti nell'immagine che accompagna la notizia a sinistra vediamo l'auto appunto che si era capottata più volte dopo lo scontro contro quel tir mentre a destra il volto di stella laurini la donna toscana di 49 anni che purtroppo non è sopravvissuta all'incidente stradale di lunedì mattina estrago di spilimbergo ha donato gli organi ma torniamo nell'altra edizione quella appunto regionale legata al frioli venezia giuglia del giornale gazzettino ancora anche se volete con l'invito di contattarci e iscriverci al numero che vedete in sovimpressione se avete piacere anche di intervenire con le vostre messaggi e testimonianze rispetto alle news che stiamo vedendo insieme sostanze cancerogene il frioli spegne le stufe la qualità dell'allarme l'allarme la qualità dell'aria l'allarme oggi è il benzo pirene è alto nel frioli occidentale ma anche in carnia la colpa dei caminetti e la regione prepara una stretta decisiva il piano del 2023 prevede infatti 15 punti si focalizza sull'inquinamento prodotto dalle abitazioni comitato ciriani duello a distanza sull'inceneritore gli attivisti della bc distribuiscono volantini il sindaco dice basta no ideologici il sì invece spazio alla scienza dei sensori sugli autobus per testare in diretta che cosa si respira a la tab ha installato un primo dispositivo che è stato autorizzato dal cnr in tutta italia il presidente afferma ci permette di capire anche il livello delle pm 10 la tecnologia è stata messa a punto su un mezzo ancora all'inizio di questo mese di dicembre l'ex ministro e l'unesco in campo per villa cattaneo clini governo monti assicurato anche la sponda della commissione ue ora la nascita invece di una fondazione i conti in tasca l'abbiamo letto questa mattina presto anche nel messaggero regali sotto l'albero però un friulano su quattro sarà costretto a rinunciare a questi acquisti i calcoli secondo conf commercio stimano che in media spenderemo 154 euro a persona per i regali caro bollette però pesa nelle famiglie per l'88 per cento e l'inflazione per il 75 tra novembre 2022 gennaio 2023 25.000 nuove assunzioni nello stesso periodo del 2021 erano state 33.000 nella pagina successiva si riporta la nascita dello sportello energia una guida per i risparmi disponibile il mercoledì ed il venerdì fornirà un aiuto sugli interventi possibili un punto informativo e attivo da ieri in via stringer a udine ed ecco all'interno dell'articolo si spiega che cosa si potrà fare in via cortazis la passeggiata tra gli stati europei vi è una pavimentazione con delle bandiere tutto questo a cura del marinoni nell'immagine vediamo appunto quanto abbiamo letto nel titolo bandiere degli stati dell'unione europea in via cortazis proprio in città sotto la tela del 500 stravince il concorso su internet open boccia detoni guerra accademica tra i due ex rettori il partito di onsel dice no al candidato del centro-sinistra verso le comunali del 2023 poi la spiegazione dicono cerchiamo un nome più di sinistra poi invece anche l'apertura ai grillini sindacati bassi il nuovo segretario fiom riconferme per field e fisac borgo prachiuso in mostra tra visite ed eventi natalizi la prefettura apre le porte questa l'iniziativa poi servizio a udine aiuti ai genitori ritorna il progetto famiglia lo sport ma non solo la maggioranza che vara modifiche alla finanziaria arriva il bonus dedicato all'attività fisica e agli impianti la lega presenta proposte ammontano a 6 milioni di euro ci sono oggi all'interno del giornale troverete tutte le misure tra i quali gli abbonamenti dimezzati per gli over 65 residenti che useranno i trasporti avranno appunto uno sconto un beneficio del ben 50 per cento sull'acquisto dei loro abbonamenti il bando gas è confermato a palmanova non vogliamo famiglia il freddo sostengono poi giustizia vocati la fondazione carne lutti diventa un unico soggetto regionale torniamo nel messaggero veneto continuiamo a parlare e a vedere insieme quante sono le news dei titoli riportati oggi nei quotidiani in edicola legati alla nostra regione si parla subito del carnera con la novità 7 mila posti albergo spa progetto da 28 milioni oltre metà della spesa sarà carico dei privati dalla regione arriva il primo contributo fontanini che afferma nel palazzetto ci saranno anche concerti pedone l'idea è per far sognare la città sopra vediamo la casa del basket inaugurata nel lontano 1970 altre foto sulla destra e poi insomma anche le dichiarazioni non nella nuova struttura ci saranno anche campi di padel è un quartier generale dell'apu sono questi dettagli raccontati nel piano che saranno poi svelati nello specifico a breve dopo un decennio buttato all'ortiche udia non può perdere questo treno l'impianto dei rizzi vecchio nonostante resta in da 5 milioni la regione si è fatta avanti ora tocca ai privati per uscire dice allo scoperto nelle pagine successive in comune si legge nel titolo 100 assunzioni nel 2022 ma il numero dei dipendenti è in calo l'organico di palazzo da ronco è sceso da 762 a 758 ieri il sindaco ha dato il benvenuto a quelli che sono stati neo assunti prima scuola forense distrettuale in italia alla fondazione carnellutti tutti i 2500 avvocati delle friuli venezia giulia è dedicata al giovane si chiamava lorenzo parelli la copertina 2022 dell'espresso lo studente del bearzi ricorderete era deceduto durante uno stage in azienda e qui vicino riportata anche una foto riguardo al giovane lorenzo morto a 18 anni durante proprio questo stage tirocinio in una azienda morto a 77 anni il luto in città per il notaio frattasio aveva lavorato in polizia tra roma e modena durante il periodo del terrorismo sabato ci sarà l'ultimo saluto per antonio notaio molto conosciuto stimato in città udi e nonché scrittore appassionato di teatro si è spento all'età di 77 anni lavori pubblici addio all'incrocio in via selvuzi se c'è la nuova rotonda l'intervento dovrebbe essere completato entro fin dell'anno comune che ha investito qui 600 mila euro per modificare cambiare nettamente la viabilità come vediamo anche nelle foto sotto due immagini riportate integrazione della nuova rotonda tra via lumignacco e via selvuzi via manzoni sgomberati dei locali che sono in disuso e sotto tribunale permessi di soggiorno veloci in 5 davanti al giudice a palazzo kecler presentato il libro di borgo novo soldi dalla regione ma bus fermi nonostante l'apertura di fedriga sindacati hanno confermato lo sciopero oggi si fermeranno bus possibili disagi del personale di arriva tavolo tra regione sindacati azienda tpl fvg primi risultati dal tavolo ma lo sciopero e la situazione non si è comunque fermata nel campiere dell'ex birrificio dormis è stato acceso all'albero di natale buon auspicio grazie a un investimento della danieli al posto della vecchia fabbrica entro il 2024 qui sorgerà la sede dell'its malignani vediamo anche qualche foto che accompagna la notizia con l'accensione quindi di questo albero di natale in alto poi a destra invece benedetti e in basso le persone che ieri nella giornata sono intervenute per l'accensione un grande evento benefico con la fanfara della iulia cori ed associazioni sabato nel chiosco della prefettura sarà l'occasione per visitare il monastero seicentesco un messaggio di vicinanza affermano a chi è rivolto a chi si trova soprattutto in difficoltà elezione dei candidati di categoria della cgl david bassi e il nuovo segretario di fiom udine confermati mazzotta fil e regomat della fisac e sotto in breve al family birr park moretti la storia di lucas tell raccontata oggi in un libro ci sarà la presentazione ripartiremo tra pochissimo accanto ci sono notizie dalla montagna tolmezzo carnia sappada poi ancora collinare medio fiori bassa e fruilana e destra tagliamento questo è un po l'ordine e la cronologia delle prossimi minuti per quanto riguarda l'analisi e lo sfoglio dei quotidiani in edicola legati alla nostra regione un piccolo break l'ultimo veloce e poi torniamo insieme a voi con news cappuccino e brioche allora sono già posizionato sulla montagna perché ripartiremo da lì e però approfitto anche per fare qualche saluto dai che abbiamo un poco più di un minuto per andare a salutare le persone collegate con noi ancora buongiorno grazie a quanti ci seguono e rimangono collegati perché ricordiamo ci sono tre pause pubblicitarie dalle 6 e mezza alle 7 e mezza per chi ci segue in televisione sul canale 11 del digitale quindi abbiamo tre break veloci di un paio di minuti e noi ne approfittiamo per chi rimane invece collegato in intra facebook youtube e lo streaming web per leggere qualche messaggio fare qualche confidenza e poi ancora contraccambiare soprattutto i saluti che ci state mandando buongiorno paola è una di quelli paola baraccetti che scrive buongiorno roberto e buongiorno a tutti saluto anche la rosalba zanello anche lei fedelissima che scrive buongiorno a tutti oltre a anna maria fregona che mi dà il buongiorno ciao a tutti grazie per i messaggini per chi ci segue sui social dall'altra parte vedo tanti messaggi in televisione ne leggo alcuni poi magari se riesco li riprendo anche più tardi quando torneremo in diretta saluto matteo che collegato con noi da palmanova ci scrive grazie davvero un grande dispiacere per la morte della 49enne come possibile ancora continuare a morire sulle strade succede quasi ogni giorno matteo questo è il suo messaggio e dispiacere ma poi anche il suo interrogativo rispetto ai tanti non l'abbiamo visto visto in questi giorni vittime della strada sono moltissimi lui si chiede ma com'è possibile che ogni giorno ci siano scontri purtroppo anche mortali davvero difficile rispondere a questa domanda anche perché caro matteo a mio avviso i fattori sono molti sia le regole della strada che spesso vengono completamente ignorate non so se condividi con me questo punto almeno vedendo come guidano le persone spesso molto spericolate insomma anche con poca attenzione rispetto all'uso dello smartphone e poi insomma ci sono tutta una serie anche di altre vicende che poi si sommano va bene ciao matteo grazie per il messaggino ha fatto molto piacere ettore lo saluto sempre collegato con noi buongiorno ci aveva scritto anche ieri poi non ero riuscito a leggere il suo messaggio in televisione poi saluto invece la marianna collegata con noi da trieste dice buongiorno roberto come è possibile spendere oltre 150 mila euro per un capodanno in questo momento di difficoltà chiedilo al sindaco di piazza lo so la tua provocazione il tuo messaggio provocatorio dice è un periodo difficile no molti comuni spengono addirittura le luci sulle strade pubbliche tu dici a trieste si spendono circa l'abbiamo letto adesso non mi ricordo la cifra tu eri molto più attenta di me circa 150 mila euro per il capodanno a trieste non so cosa dirti insomma va bene ancora altri messaggi saluto la monica che in questo momento mi inviò un messaggio con una bella stupenda immagine da sapata e grazie monica tra un po andremo a pubblicarlo e poi ci siamo ci siamo perché ora torniamo in tv abbiamo fatto un po di saluti abbastanza visto che è passato oltre un minuto e mezzo tiziano mi dice roberto 10 secondi e torniamo live per chi ci segue in televisione siete residenti in frioli venezia giulia accendete la tv sul canale numero 11 del vostro telecomando torniamo insieme con news e cappuccino e brosci informazione noi partiamo il mattino presto lo ricordiamo le 6 e mezza siamo già in diretta con voi per la colazione i messaggi l'interazione molti ci stanno scrivendo grazie contraccambiamo e poi invece anche per quanto riguarda lo sfoglio dei quotidiani nel quale appunto ci siamo fermati con l'analisi della città di udine ora proseguiamo ripartendo con il messaggero dalla montagna il viaggio di caterina da verzenis a roma una sciarpa in omaggio a papa francesco la 46enne affetta dalla sindrome di down ha realizzato il telaio il dono che ha consegnato al pontefice proprio durante l'udienza lo vediamo bene in queste immagini da sinistra caterina e patrizia marsilli che consegnano al pontefice il loro dono a destra invece la casetta con la sciarpa e la foto dei ragazzi della cooperativa a tolmezzo calzini della solidarietà sapori di carnia un'altra raccolta fondi a cercivento un calendario dedicato all'ex latteria del paese gimona del friuli la preco la preco system si amplia e punta su 20 assunzioni azienda che è specializzata nell'arredo per giardini avrà un ulteriore cappannone manager afferma vogliamo lavorare qui materie prime riciclate e quindi abbatterne anche i costi vediamo l'amministratore unico dell'azienda e raul venera oggi ripreso in un'immagine dal messaggero veneto gemona ancora spaccio di droga nel camper sono stati arrestati un uomo una donna si tratta di un 34enne di una ragazza di 24 anni che ieri sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di tolmezzo per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti sabato a gemona si inaugura una mostra su pasolini all'ora 11 palazzo botton e poi a osopo furto in abitazione è stato rubato un trattorino a martignacco ultimato il cantiere della scuola materna che andrà a ospitare 50 bambini l'apertura avverrà a nogaredo di prato è sprevista per il 9 gennaio 2023 sindaco attendiamo ancora alcuni eredi per completare le opere i lavori sono costati 3,2 milioni vediamo la struttura nella parte sopra della pagina gli interni esterni della scuola dell'infanzia di nogaredo di prato siamo in comune di martignacco che sarà aperto al rientro proprio dopo le vacanze natalizie anche altre immagini in breve a destra lo leggiamo tonuti grafiche entra in alias etichette ecco i pieni di sviluppo a Fagagna e poi a Dignano l'anziano si ustiona schiena e braccia davanti al camino ha riportato diversi ustioni quest'anziano che è stato prontamente soccorso e trasferito all'ospedale a tavagnacco piazza per tre frazioni la minoranza è critica nessun coinvolgimento a tavagnacco l'opposizione sottolinea l'assenza di condivisione sui lavori il sindaco c'è tempo per parlarne tutte all'area poi affermano va comunque sistemata civitale del friuli festa degli alberi gli allunni della scuola primaria piantano nuove specie san pietro al natisone abbiamo le scuole aperte dalle 17 30 al bilingue a povoletto segnaletica stradale in italiano ma anche in friulano campo formido l'area del parcheggio di via corazzano sarà intitolata a flaibani renzo flaibani che è deceduto nel 2004 premariacco trasformato nel paese dei presepi 135 le opere nelle frazioni tra gli allestimenti c'è anche il lavoro del maestro giocceli berti vice sindaco afferma un prezioso elemento di aggregazione sociale vediamo le diverse immagini che oggi sono riportate nel giornale proprio qui vicino per quanto riguarda presepi realizzati a premariacco nelle frazioni anche di orsaria san maure di plis in fondo l'installazione realizzata dal maestro giorgio celiberti pagina successiva medio friuli per ecodroipo gli amici del pedale al sindaco subito le zone 30 in centro le richieste dell'associazione presentate in vista dell'approvazione del biciplan presidente collegare anche la città a utilizzo e poi potenziare soprattutto il controllo dei vigili mortegliano sicurezza dei campi di calcio è fruilano il consulente in algeria villa nachini cabassi oggi le 18 e 30 la presentazione del libro di lucia pertoldi attore viscosa maxi bollette alla case gialle residenti in carico a un legale la decisione è stata adottata all'unità dall'assemblea che ha riunito almeno 100 famiglie il sindaco è stato programmato dice un incontro alla edison per trovare una mediazione sotto nella foto vediamo alcuni inquilini del complesso redenziale delle case gialle a torviscosa per palmanova torna il bando per il gas sono stati stanziati 27 mila euro per l'aiuto ai più deboli per petto si fingono due tecnici del gas e rubano gioielli e contanti donna di 89 anni che dopo alcune verifiche per quanto riguarda è un potenziale problema del gas è stata derubata l'anziana all'anziana sono stati sottratti monili in oro giuielli per un valore dai 1100 1500 euro anche in contanti a ronchis piante delle dalle associazioni e poi gli auguri dei bambini palmanova giochi dolciumi decorazioni nei pacchi d'oro a chi è in difficoltà vediamo volontari della croce rossa con i pacchi natalizi da consegnare nell'ultima pagina legata alla bassa friulana si leggono due notizie sulla sinistra la tisana il premio vigilia di natale riconoscimenti che vanno a monsignor fant a bassi e i carabinieri la giunta di la tisana ha decretato quelli che sono i vincitori appena nominati cerimonia 22 dicembre sindaco valorizziamo l'impegno per la solidarietà per la scuola e la sicurezza li vediamo qui sotto monsignor carlo fam nella prima immagine a sinistra paroco che ha festeggiato da poco i 20 anni di servizio alla tisana dice ha svolto un lavoro straordinario per l'accoglienza degli ucraini in fuga e poi accanto luca bassi ex dirigente scolastico dell'isis mattei di la tisana la sua dedizione ha fatto crescere il numero di iscritti e poi anche gli indirizzi di studio per lignano invece il lutto il market lignano fu fondato da suo marito ha gestito per decenni l'alimentare ridolfo abbiamo l'addio attilla paronne la vediamo sotto tranquilla paronne che aveva 90 anni era come un capitano per la sua famiglia scrive il giornale la conoscevano tutti non soltanto al lignano e poi sotto si racconta in breve anche la storia legata alla donna con il dolore per la sua scomparsa ma usciamo dalla bassa e andiamo direttamente nella destra tagliamento come facciamo tutti i giorni diamo uno sguardo anche alla provincia di pordenone partendo proprio dalla città ancora con il buongiorno a quanti sono sintonizzati con noi primo titolo stati generali dell'aria meno smog più pollini le case non respirano scarsa ventilazione in particolare in questo territorio poi anche in carnia aumentano gli acari focus degli allergologi sui detergenti nel nuovo piano regionale sono previsti monitoraggi specifici per le aree industriali sopra vediamo una panoramica degli stati generali rispetto alla qualità dell'aria e poi sotto invece l'unma stelle villalta e anche cecchi con una foto per ciascuno l'agenda 2023 le mossa del comune dice rivedremo le misure contro quindi l'inquinamento cairoli più delle caldaie oggi preoccupano infatti le stufe i caminetti anche nelle pratiche vince l'approccio multidisciplinare bisogna incidere in tutti i fattori pensiamo anche ai rifiuti riciclare ora è sempre più che necessario i cittadini sono parte di un ingranaggio ma a volte pensano che siano temi lontani invece ognuno sostiene può fare del suo ancora per pordenone processo condanne soldi confiscati al ragioniere e commercialista in città e a cordenone sostanziati contributi per acquistare gli impianti d'allarme da installare nelle proprie abitazioni domani la commissione palazzo 12 piani emirante al pd vi contraddicete in breve i trasporti le aperture della regione ma domani all'atap sciopera il personale cgl sanità avvertenza asfo sindacati promesse le assunzioni ma ora vogliamo i fatti dopo appunto le parole saltiamo l'inserto ed andiamo invece con altre informazioni primario e la campionessa tonizzo una famiglia speciale raccontata la storia lui guida la medicina è un riferimento della lotta al covid e a corso teleton con l'asfo lei conduce una farmacia è derivata ottava negli emiratti arabi ai mondiali master di triathlon calendario piace i lettori gli edicolanti molto gradito successo nella mattina dalla mattina per iniziativa promossa dal giornale messaggero consegnato in omaggio infatti ha qui acquistato una copia del loro giornale andiamo nei vari comuni partiamo da porcia si rimuove l'amianto scuola riqualificata entro l'estate 2023 l'assessore cancian fa il punto sui lavori error ai piccolo sono pronte nuove aule servizi e poi proroga della regione sulle tempistiche vediamo l'immagine con la foto della scuola dell'infanzia di rorai piccolo che sarà appunto protagonista dell'intervento consigliere diventa scrittore parla di piace e non violenza in un libro la storia di obiettore del cordenonese gianni ghiani tante le guerre necessarie urgente avviare una riflessione dal comune a cordenons bonus per le bollette sono state ammesse 98 domande sacile spropi in centro storico per gli immobili fattiscenti lo prevede la variante 4 al piano particolareggiato di iniziativa pubblica sono tre i fabbricati individuati l'assessore zanfra dice è urgente ora intervenire l'opera passerella da 300 mila euro a sacile c'è il sì per il progetto esecutivo poi ancora sacile con ficoni pd cittadella della salute lavori che sono fermi ormai da cinque anni ad aviano è stato assegnato a pian cavallo l'incarico di guardia medica si valuta ora un cambio di sede vediamo sotto l'immagine dottor paolo rossi progetto lavori manutentivi nell'area del cimitero sempre per aviano e poi andando invece a pasiana e la cronaca ieri con la persona che cade da cavallo batte la testa è stata trasferita a udine in elicottero subito soccorsa dall'istruttore del centro ipico che le ha prestato le prime cure dopo il forte impatto infatti è svenuta quando si è ripresa non ricordava nulla di quanto era successo tutto questo mentre stava proprio facendo lezione di equitazione al centro ipico royal ors di pasiano in sella daido nel suo cavallo in fida sotto lo sguardo attento del suo istruttore la cavallerizza è una 48enne di brugnera il caso tra volte uccisa mentre fra jogging l'investitore condannato a due anni però che sono stati sospesi infatti ha patteggiato per la morte di francesca manfè a seguito della tragedia che ricordiamo abbiamo letto poco fa anche nello spazio del gazzettino una nuova luce nelle vie per le opere urgenti a sano decimo servono 2,5 milioni a marzo scade l'appalto la giunta piccini valuta le opzioni consigliere delegato dice lavori a lotti secondo anche le diverse priorità san vito al tagliamento il caso dell'allevamento di polli per un voto non va in consiglio maggioranza e opposizione sono divise sulle modalità di adozione del piano attuativo sindaco la questione non cambia in quanto era già stata discussa in commissione vediamo il volto di alberto bernava casarsa bando contro il caro bollette sono già un centinaio le domande delle persone che ne hanno fatto richiesta spilimbergo in campo tanti progetti di turismo accessibile per una città che sia inclusiva poi a domenica in città spilimbergo avremo la marcia dei babbo natale katia arre sarà la testimonial di questo importante evento non ce l'ha fatta si è spenta 49 anni dopo lo scontro che era venuto contro un tir era accaduto a estrago di spilimbergo la coach trainer in programmazione neurolinguistica era residente in toscana ma espirata all'ospedale era a travesio da parenti vediamo il volto l'immagine di stella laurini per il quale purtroppo si è sperato per a quanto ottore che uscisse da quella prognosi riservata dalla quale appunto è espirata vediamo anche l'auto a destra sulla quale viaggiava la 49 emne che è deceduta in terapia intensiva all'ospedale di udine in seguito ai traumi che aveva riportato nel quello scontro che era venuto contro un tir chiudiamo con maniago maggio del natale in città mercatini vintage casette musica e giochi sul parco del verdi sabato saliranno anche i papu con la storia semiseria delle coltellerie vaiont gestione dei rifiuti minoranza segnala ritardi organizzativi e poi tornando a maniago aperta al pubblico in consiglio regionale la mostra itinerante sull'esedo trestino il progetto dell'artistica grazie per averci seguito fino a qui siamo arrivati in fondo la nostra segna stampa salutiamo tiziano campigotto che si è occupato in regia della parte tecnica quanti ci hanno scritto e contattato ricordiamo replica otto e mezza oppure tutti i giorni con voi dal lunedì al venerdì per la colazione il mattino presto alle sei e mezza l'augurio di una buona giornata